Continua la mobilitazione di associazioni e cittadini in difesa della riserva naturale del Borsacchio. Ad oggi hanno aderito oltre 250 organizzazioni e più di 17.000 persone hanno sottoscritto l'appello. Stamani a Pescare, in Piazza Salotto, alcuni rappresentanti delle associazioni ambientaliste si sono ritrovati per fare il punto sulla mobilitazione in difesa della riserva naturale regionale del Borsacchio. Dopo un mese di mobilitazione abbiamo avuto l'adesione di 250 associazioni, circa 17.000 firme tra quelle cartacee e quelle della petizione online. Facciamo un forte appello alla regione Abruzzo perché accolga l'emendamento per ritirare la riperimetrazione della riserva e riportare i confini originali. C'è ancora una possibilità, abbiamo chiesto al Presidente della regione, al Presidente del Consiglio regionale di essere auditi in Consiglio regionale dove porteremo le firme raccorte e chiederemo ancora con forza di ripristinare i confini della riserva, di approvare il piano d'assetto e finalmente di rendere attiva e funzionante quest'area protetta. Martedì 30 gennaio infatti c'è ancora un'occasione, l'ultima, prima della chiusura di questa consigliatura. Ci sarà un Consiglio regionale al quale si chiede di approvare una legge per ripristinare il perimetro di 1.100 ettari così da aprire la strada all'approvazione del piano di assetto naturalistico e alla nomina del Comitato di Gestione così da rendere finalmente operativa questa importante area protetta. Le associazioni di comitati in difesa della riserva naturale del Borsacchio organizzeranno un sit-in davanti al Consiglio regionale dalle ore 11 all'Aquila e hanno chiesto al Presidente della Regione Marsilio e al Presidente del Consiglio regionale Sospiri di essere ricevuti in una piccola delegazione per consegnare le firme della petizione. Sì, abbiamo anche noi raccolto un numero notevole di firme che sono confluite poi in quelle che verranno consegnate. Si sta facendo una scelta accelerata non solo per quell'area di grandissimo pregio ma proprio anche dal punto di vista urbanistico perché se la città lineare che si è formata sull'Adriatico non ha delle interruzioni, non ha delle zone di naturalità protetta veramente rischia di diventare un luogo invivibile. Inoltre anche l'offerta turistica e le stesse economie agricole hanno un beneficio dalla istituzione di una riserva altrimenti si resta semplicemente terra di nessuno alla merce di ogni speculazione. Noi non vogliamo questo e vogliamo che sia ricostituita la riserva.